Le auto più eccitanti dell'estate? Eccole! La Golf R è la più potente dell'intera gamma, motore 2000, turbo, iniezione, l'unica a trazione integrale e anche l'unica con cambio DSG a doppia frizione. Megane Sport Coupé, look da cattiva, 2.000 turbo, 250 cavalli, tutta da scoprire. La Focus RS è la più cattiva del gruppo, l'unica con 305 cavalli e un motore a 5 cilindri di 2,5 litri. Sarà lei quella da battere. L'abitacolo della Focus RS è da sportiva vera, incluse i sedili Recaro, molto contenitivi, hanno l'unico problema, non si regolano in altezza, chi è alto in statura potrebbe avere qualche problema. Lo spirito racing della RS si intuisce anche da queste cose. Guardate la strumentazione, la temperatura dell'olio, la pressione del turbo e la pressione dell'olio sono sempre a portata di mano, perfettamente visibili dal pilota. Tutto questo senza dimenticare la funzionalità. Quando si infila la retro, una telecamera ci aiuta nelle manovre. Tubi di scarico da paura e alettone da decollo. Ecco gli ingredienti per non passare inosservati. Golferri è l'unica a proporre il cambio DSG, un doppia frizione, velocissimo, con leve al volante per cambi fulminei. Sul display di bordo c'è la temperatura dell'olio, da tenere d'occhio quando si gira soprattutto in pista. Quanto all'ESP si può disattivare, ma non si annulla mai del tutto. L'abitacolo più confortevole è sicuramente quello della tedesca. Sedili ben fatti, tessuti, plastiche e alcantara. Il meglio nel confronto. E per il picnic del fine settimana vi danno anche l'apri bottiglie. Come si riconosce una Golf R? LED d'ordinanza sul muso, parabole dei fari neri, come gli specchietti retrovisori. Cerchi da 18 neri come la notte e pinze Brembo in bella vista. Ecco il DNA delle vere sportive. I sedili della Megane Sport sono dire caro, sono sportivi, molto contenitivi, ma anche regolabili per il massimo comfort. Bello e sportivo il contagiri col fondo giallo. Stonano solamente le frecce per l'indicatore di cambiata. Lo schermo del navigatore è fisso, i riflessi potrebbero dare fastidio. Ma quanto costa realizzare uno di questi sogni? Si va dai 29.000 euro della Megane RS Sport ai circa 35.000 euro della Focus RS per arrivare ai 40.000 euro della Golf R. A voi la scelta.